Amici di Raiuno, buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con le previsioni di traffico, viabilità e transitabilità di questo fine settimana. Tempo instabile, ormai siamo in autunno e il traffico su strade e autostrade continuerà ad essere piuttosto regolare. Non sono attesi grandi spostamenti se no per qualche gita fuori porta, ma per programmati i lavori di manutenzioni e possibili disagi sulle autostrade Ligure in A10 e sulla 12 e sempre per interventi di ammodernamento, lavori in autosole con relativa chiusura dalle 22 alle 6 tra Barberino di Mugello e Calenzano, ma anche code per lavori sulla 9. Al Parma Fiere, per il mercante in Fiere 2021, previste code in autosole allo svincolo di Parma e sulla 4 perché nel weekend a Milano in programma una fitta agenda di iniziative tra cui nel quartiere Fiera Roi le salone dell'auto classica e sportiva. Modifiche alla viabilità in Sardegna in quanto ci sarà sino a domenica 3 ottobre la non edizione del rally terra sarda e del primo rally terra sarda storica, una corsa declinata anche in rosa con un intero equipaggio femminile. L'itinerario è da Tempo Pausania, Aulienti, Arzachena e Palau. Ma vediamo come si presenta in questo momento la viabilità in area Meneghina, qui siamo all'altezza di Fiorenza sulla 4, come vedete flussi veicolari intensi proprio in uscita da Milano per i trasferimenti pendolari ma anche per le partenze fuori porta, quindi qualche disagio questa sera in uscita dalle grandi città e domenica pomeriggio sera per i rientri. Ma comunque domenica per facilitare gli spostamenti ci sarà come di consueto il blocco dei mezzi pesanti che osserva l'orario dalle 7 alle 22. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza, fate buon viaggio, a voi tutti un piacevole fine settimana e come sempre la linea torna a Rai 1 e alla vita in diretta. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!